a rimuovere quindi le cellule morte, a farle rigenerare vorresti provarlo? non c'è problema passare in tutte le gambe non c'è? destra Ehi, ciao Ah, stavo per farmi uno scrub Alle gambe, sì Sì, perché adesso inizierò a mettere le gambe in vista E volevo un po' prendermene cura, ecco tutto qui Ah, sì, serve proprio anche a esfoliare la pelle A rimuovere quindi le cellule morte, a farla rigenerare E la pelle diventa liscissima, molto molto morbida Proprio rigenerata, nel vero senso della parola, sì Vorresti provarlo? Non c'è problema? Se tu sei pronta in questo momento Io, se vuoi, prima di farlo su di me lo faccio su di te Che ne dici? No, allora prima Applicherò lo scrub Poi, ovviamente, dovremmo rimuovere Lo scrub, quindi con un po' da covretta sotto la doccia, sì Sciacquiamo solo le gambe con una doggetta, ti aiuto io, sì E poi possiamo passare per idratarle O una crema idratante Oppure un olio Sì Esatto Sì No, dai 20 minuti e sei pronta Figurati Bene Allora, metti di comoda Sì Avvicinati un po' e stendi le gambe su di me Proprio un po' ce l'è Qui, sulle mie E ti farò questo scrub, non ti preoccupare Ti faccio sentire anche il profumo Nel frattempo tu, metti di comoda Allora, metti di comoda Allora, dentro c'è una palettina, sì, guarda Vedi, c'è questa soluzione, così Dentro Un po' cose che adesso andiamo a mescolare Con appunto lo scrub Che sono poi, non sono altro che dei sali E' un po' cose che sia È Tea mescoliamo per bene, così da andare a prendere tutta la parte sottostante che è più solida eh sì, io mi trovo bene con questa qua, della sienna, insomma eh sì, il suono è splendido, è molto rilassato, esatto bene ok adesso adesso ne prendo un po' ok la spatolina e te lo vado ovviamente a passare tutte le gambe iniziamo da la gamba destra iniziamo 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 ok e dammila a sinistra si lo devo fare periodicamente guarda ti dico la verità io lo sto facendo una volta a settimana perchè la sento il riso no tutto 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 ok adesso dobbiamo sciacquare con acqua fresca si ok andiamo di la e ti sciacquo appunto con la toccetta mettiamo proprio le gambe dentro la doccia e ti sciacquo si ok ok adesso metti le gambe dentro la doccia ok 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 adesso come ti dicevo possiamo possiamo idratare con una crema oppure con un olio a l'olio allora come olio ti consiglio questo è un olio da massaggio all'arancia all'arancia e al cetro ed è buonissimo come fragranza ma anche come qualità si ah no questo non unge è proprio un olio adatto per il massaggio e si assorbe totalmente si ok iniziamo sempre dalla destra senti che profumo wow ok vediamo un altro po' si hai visto come si assorbe esatto te l'avevo detto ok no no ti potrei vestire tranquillamente no no ti potrei vestire tranquillamente si si ok l'altra gamba eh lo senti infatti no? come sono liscia adesso si le sentirei anche più leggere io ho sempre questa sensazione tutte le volte che lo faccio si è facile infatti questo lo puoi fare anche dentro la doccia lo scrub direttamente direttamente certo no no non è come i pendaggi i pendaggi sono un'altra cosa invece questo è molto più pratico quindi io lo faccio dentro la doccia è più semplice più comodo sporchi meno sì e invece durante la settimana quando faccio la doccia prima di fare la doccia anziché fare questo scrub passo la spazzola secco prima di entrare in doccia sì ti ricordi quella che ti ho passato quando vedi le gambe stanchissime esatto quella di legno sì passo quella e poi entro dentro la doccia e poi ovviamente metterò alla fine una crema dopo la doccia o un olio come vuoi oppure se non devo fare la doccia comunque passo la spazzola e poi idrato con un olio sì anche l'olio di mandorle certo sì ok adesso come va? benissimo ok sì certo allora guarda questo è il delasso scrub vedi della Sien lo trovi lì della Sien ottimo ok allora io ti saluto e adesso vado a farlo sulle mie gambe ciao alla prossima ciao 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 Grazie a tutti